Bella raga, io sono LohanTV21 e oggi con Gallerabe005 che sta facendo una bomba con i mini ciccioli e un post-it E oggi, cosa facciamo? Oggi, lo so raga, no no, è uno strike! Che strike? Non porto video da il 30 aprile, che sono mezzo anno E vi chiedo scusa, anche perché non avevo tempo, stanno agli esami, quindi non porterò neanche troppi video Lo so di mai! Cosa? Lo so di mai! Lo so di mai! Quindi ho gli esami, quindi non ho tempo per i video, però ve ne porterò uno alla settimana Cerco di portarvene uno alla settimana Quindi questo video è un video iniziale, così per dirvi scusa, perché ho fatto così tanto tardi E che inizierò a fare video da oggi E avrò anche collaborazioni In questo video vi lascio in descrizione il canale dei Gallerabe005 Felix G Sì, Felix G E siamo, diciamo, una crew, una gang Poi ci sarà un altro nostro amico E faremo delle challenge, dei vlog Tipo i mezzi, gli umilati Esatto, esatto Comunque, sì, faremo tanti video con loro Poi sul mio canale probabilmente porterò giochi Va bene Come Clash of Clans, Clash Royale, Minecraft Con Gallerabe e Felix Sì, vabbè, poterò un bel po' di giochi Quelli che mi chiedete ve li porto Sono felice di ricominciare a fare video Anche perché è da tanto che non li faccio E, bella Questo è il primo video Spero che vi piaccia i miei video Mi chiedevo, come ti ho usato Mobizen? Ma potrei usare tranquillamente la fotocamera, non Mobizen Lo so Allora Beh, per far vedere un po' i giochi che giocherò Ah, hai fatto intanto vedere col cellulare What the fuck What the fuck Ok Beh, sono un po' questi Possiamo giocare a A Battlelands Possiamo giocare anche con i miei amici Fumagalli Che tra poco farà anche lui È il nostro quarto membro Farà anche lui Parte della crew E ce l'ha Spero non fa video Vabbè, non farà video, credo Vabbè, possiamo giocare anche Clash Royale Craccato Clash Royale Clash of Clans Sì, beh Farò altri Un bel po' di video Ci sono i fantasmi in questa cosa Certo È bella Comunque vi dico Vi faccio vedere il mio Il mio profilo E raga Scusatemi perché Veramente È troppo tempo Comunque vi faccio vedere anche Il profilo dei miei amici Se volete chiedermelo Poi c'è Felix G È un mio amico È un mio amico Sì, abbastanza E qui C'è la nostra crew Diciamo Dove Galerabe 005 È più o meno Diciamo il leader Ma È una crew Si chiama Twin Games Andatevi a scriverli E Sì Ecco Felix Sono di Galerabe 005 È questo Galerabe E Galerabe Ha fatto 1050 views Sì Andate subito a vedere Quindi sì Andate subito a vedere il suo video È come avere una PS4 gratis Pagando solo la spedizione A pochi euro Come 10 euro Una PS4 da 10 euro 40 50 Comunque Una PS4 che costa tanto Averla a poco prezzo Beh ma parlando Di cose varie C'è Vi faccio vedere il mio Il mio profilo E il mio ultimo Video Quanto tempo fa l'ho fatto Solo per dirvelo Veramente Tantissimo tempo fa Vabbè Comunque raga Spero i video vi piacciono Ora anche una crew Sì comunque ci sta Ci vediamo al prossimo video Bella Salute Bella Addio santo